La prevenzione al covid-19 non fa abbassare la guardia sull'influenza tradizionale. Anzi, l'autunno si avvicina e con esso arriva una campagna vaccinale anti-influenzale ben più massiccia rispetto alle precedenti abitudini del nostro territorio. La campagna partirà il 2 ottobre con 94.000 dosi di vaccino anti-influenzale già ordinate per tutta la provincia. Numeri che dicono come i vaccini in arrivo siano 30.000 in più rispetto ai circa 60.000 dello scorso anno. La novità non è solo nei numeri ma anche nei luoghi della somministrazione. Verranno infatti utilizzati i drive-in di Pesero, Fano e Urbino per il vaccino anti-influenzale così come sono stati ampiamente utilizzati per i tamponi al coronavirus nel cosiddetto checkpoint del percorso guariti. Aumentare la disponibilità della dose di vaccini significa vaccinare quasi il 40% di persone in più. Si potrebbe dire che più vaccini si fanno e meno situazioni incerte andranno a crearsi, ma al momento si tratta di una equazione con troppe incognite. I dubbi fra influenza e covid ci sono e continueranno ad accompagnare la nostra quotidianità, soprattutto nel supermonitorato ambito scolastico. Basti dire che ieri al liceo Marconi di Pesero è scattata la prima procedura anti-covid ancora prima dell'inizio delle lezioni previste il 14 settembre. Ad un ragazzo che si è presentato per svolgere i corsi di recupero è stata infatti rilevata la febbre a 38 gradi dopo la misurazione col termoscanner all'ingresso dell'istituto. Qualche linea di febbre senza eccessivi sintomi sospetti ma è scattato l'obbligato via al protocollo nonostante lo studente si sia interfacciato con un solo professore in un'aula semi vuota. Il ragazzo è stato isolato, sono stati immediatamente allertati genitori, personale sanitario e la commissione con i referenti anti-covid che è stata allestita in ogni istituto. Il ragazzo resterà a casa e gli operatori sanitari valuteranno ora se innescare l'isolamento fiduciario per chi è entrato in contatto con lui.